Abbiamo un rit, che fa così, e questo rit, vuol dire che, il mio saluto è il che 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 è il che. O se voi pensate che, il che è 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 E poi così E di corte Tu bici a mele Pancamo insieme Siamo 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 insieme Che 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 E così Guardiamo non è fra noi Con ce che che Tu mi puoi dire quello che vuoi Ma ce dire non c'è Abbiamo un rip Che 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 in bastosi Che 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 Pancamo insieme Siamo insieme Grazie per la visione!